Andiamo subito a dare un premio di Bentornato, una persona che ogni tanto c'è, ogni tanto viene, ogni tanto va, ogni tanto torna e non si sa se c'è. Il premio Bentornato caratterizza quelle persone che vogliono tanto bene all'Einstein, che poi si allontanano, vanno a fare nuove esperienze, ma soprattutto alle animatrici dell'Einstein. E poi dopo si rendono conto che Elisa è un po' come la mamma e tornano da noi, giusto? Quindi premio direttamente io perché ci tengo a fare il premio di dare il Bentornato a Andrea Dresda! E poi? 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 No! Adesso lo vedete, quindi potete anche chiedere autografi, lui è la nostra voce ufficiale, il nostro cantante Andrea Dresda! Allora, innanzitutto dico che è tutta una cosa preparata qua perché mi hanno detto guarda Andrea siccome ti manca solo la coppa del Bentornato, levati dai coglioni proprio per l'annettino e poi ritorna, così almeno ti diamo la coppa, no? Scemierelli, mi mancava proprio questa misura perché ce l'ho tutte, cioè ti mancava proprio questa misura ti mancava, no grazie che è Scemierelli, il Bentornato anche, che l'ha avuta Nico due anni fa mi sembra così, quindi... No, ma non è anche lui, ti dico, no? Allora, no, voglio dire una cosa per stringere perché c'è 2.000 premi, non sono mai andato via dal Liner, nel senso, nel cuore lo sai Simone ti voglio bene... Allora, chi ha detto lei viene con me 5 minuti dopo di là tu... Noia, noi siamo in capa animazione, il cuore va bene però... Allora, aspetta, no, 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 non sono mai andato via dal Liner, nel senso, Simone lo conosco ormai da 5 anni perché abbiamo avuto un'esperienza in Calabria, Alfredo lo conosco ancora prima perché veniva a scroccare gli aperitivi al bar dove lavoravo io, quindi, insomma, c'è un affetto che ci rega, comunque, fanciullo, io grazie, vi dico grazie per l'espa coppa, vi voglio bene a tutti! Grazie a tutti!